Bentornati in una premiere insieme alla grande sempre qua su facciamo finta che questa sera torna insieme a noi Giovanni Votta bentornato grazie namaste e sempre grazie per il vostro invito ci fa un sacco piacere con il buon giovane Mesbet che dirige i fili della diretta tutti i nostri fedelissimi veterani abbonati anche ultimi arrivati dell'ultimo secondo e coloro che dicono sono capitato in questi video nei tuoi video per caso noi diciamo sempre il caso non esiste vero Giovanni siete dove avete deciso di essere e questa sera abbiamo deciso di sviscerare un po un tema di cui molto si è parlato ma ci tenevo al punto di vista di Giovanni su questo argomento loro abbiamo deciso di portare insieme a voi il discorso delle ipnosi ipnosi regressioni dal punto di vista spirituale ne parliamo da dove vuoi partire su questo argomento Giovanni grazie beh direi di definire che cos'è l'ipnosi perché sull'ipnosi c'è molta confusione tra l'altro c'è anche veramente poca documentazione io sono diplomato in ipnosi regressive sia dall'accademia di Brian Weiss a New York che ha la Pass Light Regression Academy di Londra sono più di dieci anni che me ne occupo ho scritto un libro e tra l'altro per scrivere quel libro ho fatto incetta di tutto quello che c'è in giro per il mondo e la conclusione che c'è pochissimo e quel poco è anche abbastanza confuso che cos'è l'ipnosi è una roba banale il nostro cervello ha quattro stati il stato di veglia quando noi siamo nella mente razionale e lo stato di sonno e sogno quando mente e corpo sono staccati quando va in crash quando va in coma che fortunatamente è uno stato estremo ma lo stato di gran lunga più importante interessante lo stato di trance che cos'è lo stato di trance allora abbiamo detto che abbiamo la nostra mente razionale però abbiamo altre due la mente su come enorme magazzino dove viene archiviato fondamentalmente tutto quello che abbiamo vissuto dal concepimento a oggi una premessa il nostro cervello riceve miliardi di dati al secondo alla mente razionale cosciente ne arrivano pochissimi proprio sembra 2000 su circa 40 miliardi di dati quindi la nostra mente razionale sa nulla ma il nostro cervello dimentica niente ma lo dimentica non lo dimentica a livello subconscio quindi nel subconscio archivia tutto archivia quello che per via genetica o epigenetica arriva dai nostri genitori antenati tradizionalmente si parla di sette generazioni nella mia esperienza di lavoro partiamo pure da dame ed eva chiunque possono essere qualunque possono rappresentare le nostre vite passate o parallele che uno creda le vite passate o parallele o meno non è importante quello che si vede quando si fa questi lavori che nostro subconscio ci sono dei veri e propri film se per esempio uno di questi film dice che se diventi ricco ti ghigliottinano tu provi a diventare ricco poi a un certo punto una parte di te decide che il collo te l'hanno già tagliato una volta allora questa volta perdi tutti i soldi ma ti tiene il collo poi quello che diciamo deriva dall'ambiente in cui viviamo se noi siamo nati e vissuti in italia è diverso che se non tu vivi e nasci in brasilia la cosa è talmente fisica che quando tu vai all'estero come passi la frontiera arrivi in aeroporto tu senti un'aria diversa la percepisci quella diversità è tra le credenze che hai perché vivi e nasci in italia e quelli del luogo ma a volte basta che non so io da torino mi sposto a venezia o roma e già sento che c'è una diversità tutto questo enorme magazzino di informazioni nel subconscio non solo le nostre capacità e le nostre abilità per esempio quando io se imparo a suonare uno strumento all'inizio sono lentissimo perché perché lo sto facendo con la mente razionale man mano che diventa automatico suona e non ci penso ma chi è il nostro automatico il nostro automatico è il subconscio il quale quindi archivia tutte queste cose quando il nostro cervello ha bisogno di accedere al subconscio ma in stato di trance quindi io devo fare la moca cioè fare il caffè lo faccio in automatico il mio cervello va in trance nel subconscio per vedere come si fa e guida il nostro corpo la terza mente la mente superconscia la mente superconscia è quella mente che ci collega al campo quantico di infinito amore intelligenza quando siamo in amore gioia gratitudine siamo nel superconscio anche detto stato meditativo o ipnosi spirituale allora la trance è uno stato del cervello che lui usa quando deve andare o nel subconscio o nel superconscio che cos'è l'ipnosi l'ipnosi è semplicemente una qualunque tecnica con la quale a comando mando o il cervello mio o quello degli altri in trance per fargli accedere alle loro risorse subconsce o superconsce tecniche di ipnosi ce ne sono tantissime sfortunatamente la fanno conoscere solo nel lato quella più famosa quella cosiddetta ipnosi da palcoscenico cioè quella dove ti chiamano è uno molto tecnicamente molto bravo perché tecnicamente la più difficile ti fa fare la scimmia è difficile perché perché deve essere in grado di bypassare le nostre difese cioè le nostre difese profonde si accorgono che non è che sei lì per essere amato e quindi oppongono resistenza e se uno è abile le bypass l'altro è un'altra ipnosi famosa quella medica che è riservata ai medici che fondamentalmente anestesia e analgesia l'unica di cui io mi occupo è l'ipnosi spirituale che cos'è l'ipnosi spirituale è l'ipnosi che parte dal connettersi al campo quantico di infinito amore intelligenza attraverso il superconscio quindi noi siamo in stato meditativo la ipnosi spirituale il termine tecnico per dire meditazione o connessione al campo quindi è l'ipnosi o la trance è la cosa più naturale noi passiamo più tempo in trance che svegli se per esempio stai facendo qualcosa e ti chiamano e non senti sei in trance se tu guidi arrivi a casa non sai neanche che strada hai fatto sei in trance se fai qualcosa in a automatico senza pensarci anza del nostro tempo in stato di trance con l'ipnosi tu induci in te in quel caso si parla auto ipnosi o negli altri quello sta allora che può essere ovviamente usato o per aiutare le persone o al contrario per permettere nelle paure per esempio tutta la pubblicità la politica i telegiornali usano le tecniche di ipnosi perché vogliono portare le persone proprio ad aprire fondamentalmente il loro subconscio se avete fatto caso prima dei telegiornali c'è una musica quella musica non è a caso è una musica che mette porta il cervello in stato di trance di paura perché nel subconscio abbiamo tutte le paure tutti i sensi di colpe ogni emozione negativa allora se io ti metto in trance in stato di paura lasciami dire apro il tuo subconscio a cacciarci dentro un po quello che voglio per condizionarti viceversa se io porto le persone in stato di trance in energie di amore gioia e gratitudine a quel punto le collego col superconscio e le faccio collegare al campo quantico di infinito amore e intelligenza e qui accadono delle cose meravigliose perché ripeto è stato meditativo quindi la meditazione e ipnosi spirituale li collego al campo dove a quel punto c'è infinito amore infinita intelligenza da cui anche canalizzare le informazioni canalizzare le connessioni e permettere di trasformare a livello subconscio le nostre paure e i sensi di colpa questo è io ti volevo chiedere un paio di cose perché io ho trattato un po l'argomento in questi anni di ricerca e l'idea anche dell'essere umano come un computer in cui si riesce a bypassare un po come quando il computer si accende e lui è programmato per caricare non lo so il windows quindi un programma ma con una combinazione di tasti mentre si accende tu lo bypassi va in dos quindi ho sempre visto in qualche modo l'ipnosi come l'esatta replica di questa operazione ma sugli esseri umani no e mi sono anche domandato vedendola fare anche agli animali questa tecnica quindi le correlazioni di chi anche come dici tu in ambito di show in ambito di dimostrazione lo fa anche ad animali da cortile animali che non brillano proprio per diciamo così a domesticabilità quindi è chiaro che un qualcosa riescono ad ottenere e poi c'è anche tutta una serie di culture che per anni tramandano anche queste pratiche viene in mente anche in qualche modo i gitani che una volta padroneggiavano e ancora oggi hanno tramando in ambito esoterico iniziatico per cui l'ipnosi anche ai noi una pratica per cui riescono in qualche modo a farsi dare dei soldi attraverso l'ipnosi in pochissimi secondi riescono a farsi consegnare l'incasso di un supermercato di un negoziante e mi è capitato di assistere anche a consulenze in cui erano proprio le forze dell'ordine del sistema a rivolgersi a coloro che in qualche modo insegnano ipnosi per dire come possiamo in qualche modo tutelarci quali sono le pratiche da adottare per ovviare a a queste iniziazioni che fra l'altro per chi le spettacolarizza le rende anche in virtù di questa spettacolarizzazione molto complesse molto lunghe ma che alle volte possono avvenire rapidamente con repentini cambi di logica per cui riescono a bypassare ma in pochissimi secondi il sistema di protezione di una persona che non sa che viene approcciata a questa pratica allora ti volevo chiedere proprio a proposito di questo il tuo pensiero e la tua esperienza allora sì il nostro cervello è programmabile si programma in modo molto semplice qualunque affermazione che tu credi vera e la fai tua a livello subconscio diventa un programma per esempio se la vita è dolore e sacrificio è un'affermazione io la credo vera la faccio mio a livello subconscio a quel punto il mio cervello che è la macchina che ci crea la nostra realtà questa qua fisica mi crea una realtà di dolore e sacrificio se io invece faccio mia la credenza la vita è gioia abbondanza e benessere il mio cervello mi creerà una vita di gioia abbondanza e benessere il cervello è la nostra scatola magica che crea la matrix in cui siamo e la programmi e la programmi con delle affermazioni chi fa ipnosi lo sa molto bene perché si fanno questi file chiamati script ipnotici dove tu metti delle frasi che ho lette da te o lette a qualcun altro in effetti portano la persona in stato di ipnosi quello che tu fai riferimento è un modo in verità non è solo ipnosi è spesso manipolazione anzi è una manipolazione linguistica che è molto comune diciamo venuta dopo la pnl fai conto ad esempio una volta ho preso dei corsi di manipolazione linguistica non li ho mai fatti perché provavo solo a leggere una frase mi veniva mal di testa tanto ormai sono diventati meccanismi anche potenti molto usati tra l'altro anche in ambito militare allora se c'è persone che riescono a fare queste ipnosi istantanea si chiama non funziona con tutti così come nell'ipnosi per palco su palcoscenico l'abilità dell'ipnotista è saper scegliere quelle persone che in qualche modo si lasciano catturare come tutto come tutti gli strumenti si possono usare per il bene o per il danno delle persone infatti è paradossale che quando si parla di ipnosi questo sia quello che principalmente viene propagandato ma che è una veramente la parte infinitesima del del nostro vita in ipnosi o in trance quando tu ripeto fai qualcosa in automatico sei in trance se qualcuno ti dice fammi il caffè tu ti metti a farlo e lo fai senza neanche pensarci si può dire che è un comando di ipnosi quindi io infatti dico conoscere e capire bene l'ipnosi che è semplice è molto importante poi quello che tu dici oggi è stato portato molto avanti c'è un intervista su wirehead dicembre 2018 come sai wirehead è una famose vecchie riviste di cultura informatica che ha fatto una lunga intervista a due ragazzi che sono i due guru dell'intelligenza artificiale di google e in questa intervista loro dicono che con l'intelligenza artificiale sono riusciti a e che rare l'essere umano cioè cosa vuol dire che con l'intelligenza artificiale riescono a prendere il controllo mentale ed emotivo delle persone senza che queste se ne accorga tecnicamente ipnosi eppure ipnosi interessante quando lego giornalista gli ha chiesto ma voi come fate evitare di essere e che rati lo dicono mai noi tre cose non guardiamo la televisione minimamente non abbiamo neanche un cellulare meditiamo due ore al giorno tutti i giorni e lavoriamo continuamente su di noi perché se un programma di intelligenza artificiale ti conosce meglio di quanto tu non conosca te stesso avrai dei problemi se vuoi come dire se tu una persona conosce l'ipnosi meglio di quanto tu non sappia governare e gestire te stesso avrai dei problemi quindi il vecchio noscete ipsum del tempio di delfi alla fine siamo sempre lì è interessante andrebbe in qualche modo approfondito mentre invece le ipnosi sugli animali hai mai assistito a qualche dimostrazione no onestamente non l'ho mai fatto perché mi sono sempre solo interessato degli esseri umani so che viene anche fatta ma non è mai stato nel mio ambito di interesse almeno fino adesso chi lo sa verità io la mia gatta che ipnotizza me più che io ipnotizzare lei su questo esistono anche una serie di persone non ipnotizzabili tant'è che chi studia queste cose dice tuttavia una piccola percentuale di persone risulta non ipnotizzabile che spiegazione ti sei dato diciamo che se ci sono persone molto più difficili da ipnotizzare a livello lasciami dire consapevole dire se tu gli dici tip notizzo pone resistenza tale che non lo fai però come dico l'ipnosi è una qualunque tecnica che porta il tuo stato di trance il cervello loro è stato di trance con il cervello ci vanno di sicuro quindi quando non sono consapevoli anche loro vanno in ipnosi basta un telegiornale un film se tutti un film ti cattura tu quel caso sei in stato di trance quindi lillip notista è il film come ecco oggi si può dire che grande grande ipnotista è la televisione e c'è una cosa interessante quando tu porti in ipnosi le persone ci sono accadono tutta una serie di fenomeni interessanti uno di questi chiave è che risponde solo alla voce dell'ipnotista tant'è che io insegno come fare per condurre bene una seduta soprattutto di regressione se qualcun altro dice qualcosa non lo ascolta se uno si prende come ipnotista la televisione quello che accade è che tu inconsciamente risponderai solo a quello che ti dice la televisione peggio se uno dice ma io la tengo accesa ma non la guardo non la sento neanche essi non la sente a livello conscio ma altri livelli la senti la percepisci quindi come dicono i due grandi guru dell'intelligenza artificiale di google è meglio lasciarla spenta almeno per questo io a casa per lavoro sette televisori non uno da cui si vede la televisione vi servono come per voi per lavoro ecco interessante questo perché poi c'è al punto di vista invece andiamo in ambito di regressioni quindi che cosa si può fare e il perché lo si fa come regressione le regressioni che è un termine generico per dire in pratica che tu portando la persona in ipnosi quindi porti il suo cervello in stato di trance a quel punto lei è in grado di accedere a tutte le memorie subconsce se io ti dico cosa hai fatto quando avevi due anni ragionevolmente non te lo ricordi ma se io ti porto in ipnosi e ti faccio tornare quando avevi due anni ti ricordi tutto perché come dico il nostro cervello a livello subconscio non cancella nulla ora cosa accade proprio perché il subconscio è una riserva enorme di informazioni come diceva young rendi cosciente l'inconscio altrimenti sarà lui a guidare la tua vita e lo chiamerà il destino e gran parte dei nostri comportamenti sono dettati da queste memorie inconsce per esempio c'è un esempio io voglio diventare avere successo nella vita ma se ho registrato nel subconscio che mio padre mi diceva che sei un fallito nel tempo che io dico voglio avere successo il mio subconscio per tra l'altro 500 mila volte così è stato più o meno misurato mi ricorda con la voce di mio padre che io sono un fallito quindi io mi do da fare ad avere successo ma a un certo punto fallisco allora qual è il lavoro dell'ipnosi spirituale il lavoro dell'ipnosi spirituale è collegati sempre solo al campo quantico di infinito amore e intelligenza perché il punto è questo se il mio subconscio è 500 mila volte più veloce della mente conscia io non posso trasformare quelle informazioni col mio pensiero una 500 mila non c'è broker che te la dà vinta per anni mi sono tormentato su questo punto perché ma come si fa poi un giorno leggendo i libri di Yogananda e Kriyananda ho imparato che esiste il superconscio e allora gli è stato immediato perché se il superconscio è infinitamente più potente del subconscio da ingegnere è ovvio infinite maggiore di 500 mila sì problema risolto quindi io dal superconscio accedendo alle memorie subconsce le trasformo e le trasformo sempre in modalità di amore gratitudine gioia e positive togliendo paure sensi di colpa rabbia rancore per esempio sono in grado di trasformare quella memoria di mio padre che mi dice io ti amo e sei di successo a quel punto quando dico voglio avere successo il subconscio con la voce di mio padre mi ricorda che lui mi ama e sono di successo e io decollo la domanda che spesso viene fatta è sì ma non è stato così mio padre mi diceva in effetti ecco qui entra in gioco un altro concetto importante nel modello di copenhagen della fisica quantistica a un certo punto i fisici si sono chiesti per il dualismo onda particelle principio di indeterminazione di heisenberg ma cos'è la realtà perché i due principi dicono che l'osservatore la fa collassare la risposta è stata netta la realtà non è conoscibile noi ne abbiamo solo una percezione quindi io della realtà ne ho una percezione non la conosco realmente questo significa che io di mio padre ho delle percezioni non ho una vera realtà è per questo che sono trasformabili tra l'altro il concetto di percezione io lo vedo proprio facendo coaching chiarissimo a volte vengono da me intere famiglie il padre la madre tre figli viene da me la moglie che mi parla del marito che è venuto il giorno prima io dico ma di chi sta parlando quello che è venuto ieri per non parlare dei figli tre figli sei genitori diversi per una il padre un dio per l'altro il padre non c'è mai proprio perché ognuno di noi legge la realtà in base alle informazioni che ha quindi ne ha una sua percezione allora per questo io sono in grado di trasformare quelle memorie film informazioni subconsce che ci depotenziano in amore potenziante certo io posso anche continuare a indurre paure sensi di colpa che è quello che fa costantemente per esempio tanta informe cosiddetta informazione che il cui unico obiettivo è tenerti nelle paure e vengono continuamente rafforzate ma dall'altra parte se tu sai usare sai come funziona davvero questi meccanismi li aiuti per trasformare le percezioni subconsce che le persone hanno e farle vivere bene tuttavia ci sono anche dei meccanismi di difesa della persona alle volte nel fare delle regressioni vengono fuori delle cose che magari non si volevano affrontare quindi in quel caso tu vedi anche una pericolosità in questa funzione o tu dici prima o dopo tanto andavano affrontate meglio tirarle fuori che lasciarle lì a sedimentare di nuovo dipende come lavori e come operi io se stollinio faccio ipnosi spirituale e regressioni spirituali che non sono le regressioni normali qual è la differenza che collego le persone nel loro super conscio le porti in questo stato meditativo di amore quindi loro sono in una frequenza di amore quando si fa una regressione vengono fuori poi ci sono diversi cose che faccio però diciamo pure una regressione quella standard dove si dice vai in una vita passata che poi la cosa che faccio di me si fa di meno perché si usa per altre cose però tu vai a rivedere tutta quella vita e durante quella vita puoi aver passato momenti anche difficili dolor dolorosi genere appunto da solo non ti non puoi farlo proprio perché il tuo sistema interiore ti difende perché se tu finisci per esempio lì che ti torturano sei devastato ti serve un coach esterno perché è presente e ti guida in quel caso in genere quando arrivo a lui gli fai saltare tutta la parte dolorosa perché non serve per andare avanti e poi lo racconterò andare a risolvere tutte quindi è vero è una cosa delicata e importante e c'è un altro fatto Milton Erickson che è il grande padre dell'ipnosi contemporanea lo diceva chiarissimamente l'ipnosi più semplice e facile è quella quando tu lavori per il bene della persona quella da palcoscenico è la più difficile perché tu sei lì per ingannarlo ma quando tu fai un'ipnosi spirituale la persona che viene da te sente nel livello profondo che tu stai lavorando per il suo bene e si fida di te ti fida dell'energia in cui quel momento di amore noi siamo e quindi si lascia andare molto facilmente proprio l'ipnosi più semplice che ci sia proprio perché tu stai lavorando per il bene della persona in energie di amore e la persona lo percepisce proprio a livello profondo anche se non sa magari neanche che stai facendo una regressione perché in realtà tu porti le persone in ipnosi regressione proprio semplicemente parlando senza dover fare cose particolari quindi il tema è sempre che energie in che energie sono e qual è il mio obiettivo il mio obiettivo aiutare le persone a stare bene a trasformare i loro traumi e le loro memorie sono in energie di amore il loro sistema profondo proprio si apre e io insegno a farle e devo dire tutti imparano imparano facilmente ma proprio perché si fa regressioni spirituali in ambito di amore se dovessi segnare invece ipnosi classica o regressioni classiche io lì non saprei neanche da parte cominciare perché siamo tra la mente conscia e subconscia ed è un grosso problema l'ipnosi spirituale le regressioni spirituali che ripeto a grande scuola è quella di Andy Tomlinson di Londra e anche quella di Brian Weiss a New York si focalizzano sull'andare a risolvere i traumi cioè se anche faccio una regressione una vita passata quello che importa è il passo successivo arrivati al punto di morte si va in quello che si chiama l'eterno presente il regno dello spirito per andare a risolvere tutti i traumi di quella vita per esempio se lì qualcuno ti aveva torturato si andrà a incontrare il tuo torturatore per risolvere quella dinamica fino a che si arriva a una rapacificazione e amore tra tutti e due questo cosa fa che a livello profondo scioglie quello che era un trauma comunque presente inconsapevole ma esistente attivo e lì viene messa pace e la persona dopo sta veramente meglio normalmente questi lavori si fanno proprio per un obiettivo cioè se viene qualcuno dice io vorrei risolvere lavorare il mio problema della gelosia piuttosto che ecco che le tecniche di ipnosi regressiva sono uno degli strumenti potenti che si possono usare non è l'unico ma sicuramente molto efficace tra l'altro personalmente poi le applicazioni più grosse spesso sono regressioni in questa vita perché noi stiamo vivendo più più vite in questa vita se ci pensi cosa ci azzeccavi con la vita di quando avevi 10 20 anni con quella di adesso sono proprio vite diverse e allora si va lì per esempio anche risolvere problemi tipo il bullismo si fa le stessi metodi con cui si va a risolvere i conflitti con cui tu hai avuto con qualcuno e i risultati sono decisamente incoraggianti ecco perché poi giustamente uno dice se dall'altra parte abbiamo la televisione o il marketing la pubblicità tutte queste multinazionali che vanno a battere in quel modo di comunicare all'inconscio si si può controbilanciare anche per contendergli quella fascia di popolazione che ancora non ha capito e che subisce passivamente tutto quanto al di là di aspettare che in qualche modo ha una sorta di consapevolezza si può in qualche modo controbilanciare mettendo tra virgolette un qualcosa di uguale e contrario per annullare un po' questa questa pubblicità questa propaganda questa ipnosi collettiva o deve esserci in qualche modo il libero arbitrio bisogna aspettare che qualcuno abbia consapevolezza e si risvegli domanda estremamente interessante e a mio avviso due articolazioni uno sicuramente quando noi lavoriamo in energie di amore rispettiamo il libero arbitrio qui quindi uno deve poco per volta risvegliarsi però c'è un fattore molto interessante che la famosa legge di marisci la legge di marisci che marisci come sai era un famoso guru fisico indiano che è stato il guru della big generation da lui sono andati via farro beatles roly stones eccetera che ha portato in occidente la meditazione trascendentale e lui ha fatto tanti esperimenti per misurare l'effetto della meditazione quando ho scritto il mio primo libro spirito quanto un coccino ho passato ma prendo un anno per cercare di trovare i documenti scientifici che testimoniavano i suoi esperimenti e ne ho documentati con tutto i sacri carismi due che per me sono molto significativi grazie ai quali è arrivato a formulare la famosa formula di marisci due esperimenti che documento sono uno a new york a washington dc quando 4000 meditatori si sono trovati per due mesi e avevano detto che meditando sarebbero diminuiti i crimini violenti a washington washington dc la capitale degli stati uniti che una delle capitali del crimine capo della polizia andò in televisione per dire che doveva nevicare mezzo metro perché accadesse era luglio agosto quindi era un po improbabile ma questa idea che poi migliori grossi università americane l'fbi e la polizia hanno collaborato a questo esperimento per farla breve dopo due mesi i crimini misurati con i metodi dell'fbi a washington abbinuti del 25 per cento secondo esperimento che riporto documentato è durante i due anni della guerra del libano la guerra è una di quelle condizioni estreme che l'umanità riesce ad andarsi a cacciare e cui sembra che noi non abbiamo potere per sette volte nei due anni c'è stato un gruppo di meditazione trascendentale e tutte le sette volte è stato misurato che durante questa meditazione dimezzava il conflitto saliva del 60 per cento la cooperazione tra i nemici diminuivano tutti gli effetti collaterali eccetera quindi abbiamo un potere enorme la formula di marisci quando la vai a leggere trovare io l'ho invertita e dice questo quando un gruppo di persone medita che effetto misurabile ha sulla società bene la formula di marisci dice se la invertiti dice che il numero di persone misurabili aiutate è cento volte il quadrato del numero dei meditatori allora intanto questa è una formula esponenziale perché il quadrato esponenziale tradotto vuol dire che se io medito aiuto cento persone ma se siamo già in due sono quattrocento se siamo in tre novecento se siamo quattro mille seicento per aiutare il pianeta diciamo di avere essere dieci miliardi di abitanti bastano diecimila persone che meditano ora fortunatamente sul pianeta la meditazione sta crescendo enormemente quindi sono altro che diecimila le persone che meditano e queste diciamo non solo controbilanciano tutto quello che dall'altra parte si prova a fare ma lo sovrastano nota che quegli altri conoscono benissimo come funzionano le leggi dell'energia e l'universo mettiamola così per controbilanciare diecimila mediche persone che meditano devono mettere nella paura 24 ore su 24 10 miliardi di persone è un lavoro defaticante incredibile enorme e che poi insomma non darà tutti i suoi frutti perché alla fine se guardiamo le cose non vanno così male io dico sempre guarda il qui e ora qui ora è radicale in questo preciso istante io guardo me sono nel mio film mio studio non sono deperito non sto neanche male tutto che cosa mi sta mancando nel cui ora niente e ma domani ma domani non è qui e ora quindi qui e ora è un esercizio radicale e questo fa quindi sì non solo si controbilancia ma si va molto 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 oltre per il bene di tutti e meditare ripeto è il termine per ipnosi spirituale e ipnosi spirituale è connettersi al nostro superconscio che è la nostra terza potentemente mi ricordo una domanda che fecero abbattiato no dicendo ma in concreto questi maestri spirituali che si estragnano dal sistema vanno come remiti negli angoli più sperduti dalla terra a meditare tutto il giorno cosa fanno poi di concreto come l'aiutano e battiato disse esattamente quanto ci stai raccontando tu sono esattamente questo è una formula è sperimentata misurata sul mio libro trovate anche tutti i riferimenti marisci ha fatto un grande lavoro la sua medizione trascendentale devo dire è veramente favolosa ma valde qualunque tipo di meditazione meditazione vuol dire essere in uno stato di amore gioia e gratitudine se io sono lì in bicicletta che mi godo la mia passeggiata nella natura e sono in amore sto meditando se io sono lì che mi cucino qualcosa e sono in amore sto meditando quindi non è che cosa fai come sempre ma fare all'universo non interessa all'universo interessa in che energie sei qualunque cosa tu faccia se sei in energie di amore è fantastico se sei in paura e sensi di colpa rabbi e emozioni negative allora dire ok andiamo a sciogliere tutte quelle paure quelle sensi di colpa e torniamo in amore e con le tecniche di ipnosi regressiva le regressioni e altre tecniche che anche in segno si fa esattamente questo e quindi la giornata cos'è ti ascolti sono in amore gioia e gratitudine fantastico vivi lì ho una roba che mi agita che mi fa paura andiamola a sciogliere e una volta sciolta la magia è questo di nuove e qui si collega anche di nuovo alla cache no a questo serbatoio comune al quale tutti siamo in qualche modo collegati un po come un cloud un po come un serbatoio un po come un registro di cui di tanto in tanto la gente prende e aggiunge no un registro collettivo dove ognuno scrive ognuno legge in base a quelle che sono le proprie esperienze collettive no quindi siamo tutti connessi certo la cassa è un termine diciamo antico per dire campo quantico di infinito amore intelligenza se noi vediamo il campo quantico di infinito amore intelligenza come informazione la cassa è quello quindi e tra l'altro secondo modello di penrose amerov e di per os amerov roger per per os è un ha preso premio nobel per la fisica nel 2020 amerov è un anestesista di tucson e nassi maramein che lui ha sviluppato la fisica unificata c'è un concetto molto interessante in realtà nel nostro cervello c'è niente perché le informazioni sono sempre tutte solo nella cassa nel nostro cervello c'è il ricevitore come dire tu hai la radio ma nella radio non c'è il cantante nella radio tu hai il circuito che ti permette di ascoltare la trasmissione e noi funzioniamo nello stesso modo tra l'altro secondo il modello di amerov e penrose questo passaggio che è un passaggio dall'informazione quantistica all'informazione fisica standard avviene dentro i microtubuli e i microtubuli sono i componenti di ogni cellula e soprattutto anche di dei neuroni e dove lì avviene a intervalli di tempo il passaggio dalla sovrapposizione delle informazioni a quella standard per esempio io se vedo un volto a livello quantistico sono tutti sovrapposti perché c'è la sovrapposizione poi ne identifico uno e questo avviene un preciso intervallo di tempo ed è interessante un'altra cosa secondo i loro studi allora quando noi diciamo nella mente conscia razionale diciamo usiamo circa 20.000 neuroni poi loro calcolano in verità in microtubuli però parliamo di neuroni che è la stessa roba e noi abbiamo questo passaggio quindi che di comprensione di consapevolezza ogni 25 millisecondi è il nostro passaggio di conscio di consapevolezza man mano che io vado in paura e sensi di colpa rabbia emozioni negative io uso sempre meno neuroni e arrivo a usarne mille a quel punto sono 20 volte più lento a capire anziché 25 millisecondi ne impiego 500 quindi se tu metti le persone nelle paure nelle rabbia nei sensi di colpa tra le tante cose li rendi anche sempre meno efficienti meno efficaci quando è che il nostro cervello mette il turbo curiosamente mette il turbo e vi è stato misurato ci sono i loro dati quando vai in stato meditativo ovvero vai in nosi spirituale in stato meditativo il cervello arriva a usare 40 mila neuroni il doppio e tu capisci in 13 millisecondi quindi sei due volte più veloce almeno due volte più veloce allora vuoi avere le peggiori prestazioni col massimo di sforzo e fatica arrabbiati stressati competi stai nelle paure nei sensi di colpa nelle ansie vuoi avere il massimo delle prestazioni in tutto nel lavoro nella vita col minimo di fatica sta in stato meditativo misure di ameroff e penrose ecco e qui mi vengono in mente un po i due opposti no quindi ti chiederei da una parte un po come diceva gustavo adolfo roll io sono la grondaia quindi un po l'elemento di antenna che anche tu ci stavi raccontando dall'altra parte come approccio per chi in qualche modo ha dei problemi per tutta una serie di anche malattie di chi ha difficoltà nel connettersi come antenna a questo sistema per cui ne derivano delle sensibilità e dei modi diversi di interpretare la realtà per esempio mi viene in mente l'autismo o chi in qualche modo ha difficoltà nell'esprimere e in qualche modo nell'avere un pensiero diverso dal nostro potrebbe anche essere quello un approccio da utilizzare anche l'autismo diciamo personalmente sono stato diagnosticato autistico quindi qualcosetta lo conosco sono situazioni mentali diverse diciamo io poi ho anche lavorato molto con persone down persone handicappate ho passato tanti tanti anni della mia vita fare questo e ognuno di questi ha un suo modo ovviamente di vivere e interpretare per quello che riguarda me mi hanno tutti dato tantissimo certamente la salute fisica è la chiave per il benessere e sul fatto però di essere in energie di amore o poter stare in energie di amore beh certamente alcune persone io mi ricordo quando lavoravo con dei bambini cotolengo di torino parlo di tanti tanti anni fa questi bambini che pratica non cresceva il loro cervello anche se avevano otto nove anni ma come fossero piccoli beh loro vivevano in stato di amore perenne e infatti lavorare a stare con loro ti scioglievano ti scioglievi proprio diventavi perché erano talmente innocenti talmente buoni di fatti giustamente venivano molto protetti perché essendo non avendo malizie uno poteva facilmente fargli del male ogni situazione ogni essere umano è unico ogni essere umano ha la sua storia il fatto che siamo connessi in amore quella è per chi è consapevole una scelta per altri può anche essere uno stato di vita naturale inconsapevole quindi non riuscirei a generalizzare io ho visto che sempre ognuno ha la sua storia il suo modo di essere certamente quando siamo siamo diciamo bene siamo consapevoli è una scelta quella di decidere di stare comunque in energie di amore che ci aiutano perché tra l'altro anche se tu vai a vedere tutti gli studi di earth mat che questo famoso centro di ricerca scientifico americano che loro studiano solo la connessione cuore cervello e la misurano tra l'altro hanno una biofeedback che misura questo che è bellissimo anche molto economico e loro scientificamente ti dimostrano quello che è un po ovvio se tu sta in questo amore gratitudine gioia tutto il tuo organismo la tua parte psichica fisica mentale sta bene ed è in armonia e copera più tu vai in rabbia rancori odi peggio sta tutto il tuo sistema lo si misura facilissimamente con biofeedback a computer e tu vedi che quando sei in uno stato di amore gioia computer vedi un'onda sinusoidale molto pulita molto regolare come passi in emozioni negative diventa molto frastagliata e quello indice che ci sono dei problemi e come dire tutto il nostro sistema biofisico mentale emozionale è progettato nato per vivere in amore gioia gratitudine o forse è l'amore che ci ha creato così per cui non possiamo che essere così ecco è curioso quanto ci hai raccontato su te stesso e anche sull'autismo perché poi secondo me dentro lo spettro autistico loro racchiudono tutta la serie di fenomenologie che andrebbero approfondite per esempio i bambini indaco i bambini arcobaleno i bambini cristallo tutto questo nuovo modo di rapportarsi anche i nuovi linguaggi quindi chi in qualche modo ha un linguaggio prettamente logico matematico e riesce a interpretare lo spazio e la realtà solo attraverso calcoli contando tutto interpretando tutto riesce in qualche modo ad isolarsi finché non raggiunge come se fosse ossessionato dal trovare una chiave per un qualcosa no tu questo l'hai mai approfondito guarda ripeto ognuno è fatto a modo suo ci sono alcune persone che sono molto mentali e razionali ma non è tanto per un problema di patologia per quello che ho visto almeno quelle che sono per problemi di paura noi nasciamo in un clima che è meccanicistico e razionalistico ancora oggi la scienza si definisce tale quando gli esperimenti sono ripetibili meccani che in verità già la fisica quantistica va dimostrato che è assolutamente falso tutto falso però i giornali di nuovo anche la scienza pubblica ufficiale continua a riportare questo vecchio schema e se uno si fa intrappolare da quello si è un problema perché in verità la mente razionale come diceva einstein è un servo è un servo dell'altra mente la mente emisfero destro la mente empatica la parte emozionale ma come diceva noi abbiamo fatto del servo il padrone invece di metterlo in quello che è il suo luogo quindi il grosso passaggio per tutti è dalla mente al cuore dalla parte razionale mentale alla parte empatica emozionale tant'è che per decenni ci hanno fatto credere che quello che importava era il cui ma il cui conta niente il cui misura solamente la nostra intelligenza logico matematica che già negli anni venti uver negli stati uniti aveva dimostrato che una delle nostre nove intelligenze quindi ne abbiamo nove e tu ne vai a misurare una c'è l'intelligenza musicale quindi tu potrei essere mozart avere zero di cui però sei mozart ma fa parte tutto di questo mondo meccanicistico razionalistico che non è umano perché noi umani abbiamo quella parte lì ma è solo una piccola parte la nostra vera parte la parte spirituale la parte del cuore la parte delle emozioni nel corpo umano abbiamo le emozioni l'empatia fino e quando noi sviluppiamo e siamo in connessione con quella parte e la razionalità è messa al servizio del cuore allora realizziamo davvero chi siamo se no avremo sempre qualche problema proprio perché siamo innaturali rispetto alla nostra natura umana la famosa intelligenza cardiaca e mi viene in mente anche il piccolo principe l'essenziale invisibile agli occhi non si vede bene che con il cuore anche lì per bambini fintamente questo questo racconto ma in realtà nasconde ben altro no assolutamente verissimo perché allora se la realtà del campo è infinito amore come noi siamo tra l'altro c'è un fatto molto interessante la stessa scienza ci dice che l'atomo è vuoto quindi tra il nucleo e l'elettrone in mezzo c'è un infinito spazio vuoto ma non è vuoto e lo dice anche loro poi dicono che il vuoto non è vuoto mai pieno perché ti crea un po di casino dici ma cos'è il vuoto che non è vuoto che tiene poiché la nostra realtà materiale è un nasce dal campo quantico quindi è il campo quantico che materializza quel vuoto non è vuoto è pieno dell'energia del campo stesso come dire io sono immerso nell'acqua dell'oceano dentro l'oceano delle palline di iceberg per dire di ghiaccio e non è che tra le due palline non c'è niente delle palline c'è il mare allora visto che questo vuoto è il 99,9999 per cento ma non è vuoto mai bensì costituito da questo elemento del campo quantico che è amore vuol dire che noi siamo al 99,9999 per cento amore e come noi tutto perché tutto deriva dalla materializzazione di quel campo quindi la parte non amore è veramente infinitesima che poi noi riusciamo a tormentarci con quell'infinitesimo è vero guardiamo la stragrande abbondanza di cui siamo fatti di amore e stiamo bene tutti ecco quindi mi fa piacere perché noi di tanto in tanto cerchiamo di dare anche un'interpretazione su quello che è l'attualità no per vedere anche le emozioni i pensieri quel che ne deriva e chiedo un po a tutti quanti tu sei ottimista che periodo stiamo vivendo provando a ipotizzare anche un po quella che è questa estate non senza andare troppo oltre dammi un'interpretazione di ciò che ci circonda sei ottimista come va ma ripeto facciamo l'esercizio del cui è ora certamente se io guardo me stesso in questo momento non posso che dire bene cosa mi sta mancando nulla se è vero che il pensiero nostro le nostre emozioni co creano la nostra realtà più siamo di nuovo in energie di amore e in più siamo in energie di amore non può che venirne del bene per tutti come detto prima grazie alla legge di marisci fortunatamente sono oggi che siamo nell'ambito spirituale di crescita di amore siamo tantissimi cito sempre quando io ho cominciato a occuparmi di questi temi più di vent'anni fa in italia c'era una sola libreria che era la famosa libreria esoterica alla fermata della metropolitana di milano in san babila e c'era solo quella mi ricordo io andavo lì per terra a zappare in quelle fotocopie quelle per trovare oggi c'è una ricchezza enorme di conoscenza quindi proprio perché si sta diffondendo la spiritualità a tal punto che proprio oggi ho fatto due video su due articoli della mckinsey tu sai che la mckinsey è la più potente io ho lavorato con loro nel 98 quando ero direttore in sun microsystems mio capo mauro banchero hanno fatto un lavoro assieme alla mckinsey io ero direttore di questo gruppo per la mia azienda quindi ho imparato apprezzare come lavorano sono veramente bravi e abbiamo creato la prima offerta italiana di internet banking e commerce e la seconda o terza al mondo parentesi curiosa quando abbiamo fatto questo progetto di internet banking e commerce poi grazie a mckinsey anche si è andati a incontrare gli amministratori delegati delle più grandi banche italiane che sono erano tutti ex mckinsey e tutti hanno detto due cose uno non metteremo mai i nostri sistemi su internet due l'e commerce non ha futuro questo per dire diceva quella che non è così facile prevedere il futuro allora il futuro qual è quello che ci costruiamo giorno per giorno tante persone sono in energie di amore cercano il bene la maggioranza delle persone allora quante persone conosci che oggi sono uscite si sono messe a sparare probabilmente nessuna quante persone invece conosci che oggi nel loro piccolo cercano di fare il bene per la famiglia per i figli cercano di fare il meglio che possono quasi tutto che poi l'accento si porti solo su quell'uno che magari oggi ha sparato e questa è un po' una deviazione proprio perché c'è la tendenza a voler tenere nelle paure ma se noi guardiamo un attimo con occhio distaccato quello che anche accade attorno a noi fortunatamente a mio avviso l'amore la bellezza prevalgono e allora ricordiamo un po' quelli che sono i tuoi appuntamenti i libri dove ti possiamo trovare come ti possiamo contattare Giovanni beh io ho il mio sito che è giovanni vota punto com e l'altro sito che è love and gratitude punto tv l'ho chiamato proprio love and gratitude perché così ogni volta che qualcuno accede al mio sito o lo ricorda lo nomina manda fuori amore gratitudine e quindi si attira nella sua vita amore gratitudine l'ho imparato da masaro e moto questo l'importanza delle parole delle frasi infatti love and gratitude lo metto sui biglietti da visita al fondo di ogni pagina perché così mandiamo amore gratitudine in giro per il mondo poi se qualcuno vuole contattare la mia mail è giovanni vota gmail.com e il mio cellulare che è pubblico 3 3 3 7 1 7 1 5 6 4 e io avrò piacere di poter rispondere a chi gentilmente mi contatta bella questa filosofia Giovanni un piacere esserti amico per quanto in guarda invece gli amici di facciamo finta che cercate Gianluca Lamberti facciamo finta che su tutti i social facebook instagram telegram twitter noi ci saremo sempre e lì trovate anche tutti gli eventi luglio agosto settembre ottobre stiamo già andando avanti nella programmazione per incontrarci dal vivo che secondo me è indispensabile poter uscire fuori dal tubo fuori da youtube abbracciarci e anche qui le emozioni dell'incontrarsi poi di persona dell'abbraccio vero non hanno non hanno prezzo no quindi sicuramente un'esperienza complementare al vederci tutte le sere qua su youtube sia sul canale facciamo finta che che in quello Gianluca Lamberti per quanto riguarda l'attualità un abbraccio anche al nostro regista Giovane Mesbet a tutti coloro che hanno contribuito anche in chat fedelissimi veterani nuovi abbonati lo ricordo sempre questi abbonati i nomi scritti in verde un grazie di cuore perché rinunciano a qualche caffè nell'interesse di tutti perché grazie ai nomini scritti in verde noi possiamo dedicare più tempo anche agli altri quindi chi può contribuisce anche per chi non può e secondo noi è fantastico questo sistema perché tutti hanno accesso gratuito a tutti i nostri contenuti i super sticker e donazioni in chat grazie di cuore nuovi arrivati anche solo con un passaparola e condividendo questa puntata sicuramente buon karma e farete del bene nell'alimentare un po' un sistema che non solo è in qualche modo tramato da chi ha pessime intenzioni ma viene controbilanciato in pieno spirito in piena filosofia di facciamo finta che come ci ha raccontato Giovanni quindi in diecimila possono cambiare il mondo grazie di cuore e fra l'altro su questo canale siamo decisamente più di diecimila quindi direi che l'ottimismo non può che far parte almeno di questa serata grazie di cuore Giovanni grazie a voi namaste a tutti promo sigla appuntamento a presto grazie come scrisse George Orwell chi controlla il passato controlla il futuro chi controlla il presente controlla il passato facciamo finta che è il canale youtube ideato e diretto da Gianluca Lamberti sono quattro i nuovi video ogni settimana il lunedì il mercoledì il venerdì e la domenica alle 21 e 30 in diretta sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione facciamo finta che è presente su ogni social a te basterà seguirci grazie